Leonida I, l'eroe spartano che difese la Grecia. Leonida I fu redi Sparta dal 490 al 480 anno corrente, durante l'invasione persiana della Grecia. È ricordato come un eroe nazionale greco per la sua leadership e il suo coraggio nella battaglia delle Termopili, dove difese la Grecia dall'avanzata dell'esercito persiano. Leonida nacque a Sparta intorno al 540 anno corrente. Era il figlio del re Anassandri da due e di Gorgo, figlia del re Cleomeni. Leonida fu allevato secondo i rigidi costumi spartani, che enfatizzavano la disciplina, la forza e il coraggio. Nel 490 anno corrente, Leonida guidò un esercito spartano nella battaglia di Maratona, dove i greci sconfissero l'esercito persiano. Questa vittoria fermò l'avanzata persiana in Grecia per dieci anni. Nel 480 anno corrente, l'imperatore persiano serse uno in base la Grecia con un esercito di oltre un milione di uomini. Leonida fu nominato comandante di un'alleanza di greci che si erano riuniti per fermare l'avanzata persiana. L'esercito greco si schierò alle Termopili, un passo di montagna che era l'unico percorso per l'esercito persiano per entrare in Grecia. Leonida e i suoi uomini si prepararono a difendere il passo con le loro vite. L'esercito persiano attaccò le Termopili per tre giorni. I greci respinsero ogni attacco, infliggendo pesanti perdite ai persiani. Il terzo giorno, un traditore greco chiamato Ephialte guidò l'esercito persiano attraverso un sentiero nascosto che circondava le Termopili. Leonida, consapevole di essere stato aggirato, fece allontanare il grosso dell'esercito greco e rimase a guardia del passaggio con 300 spartani, 700 tespiesi e 400 tebani. I 300 spartani e i loro alleati combatterono fino alla morte. Leonida fu ucciso in battaglia e il suo corpo fu decapitato dai persiani. La morte di Leonida e dei suoi uomini fu un duro colpo per l'esercito greco. Tuttavia, la loro resistenza diede ai greci il tempo di riorganizzarsi e prepararsi per la battaglia di Platea, dove sconfissero definitivamente l'esercito persiano. Leonida è considerato un eroe nazionale greco per la sua leadership e il suo coraggio. La sua morte alle Termopili è stata un atto di sacrificio che ha contribuito a salvare la Grecia dall'invasione persiana. L'eredità di Leonida L'eredità di Leonida è ancora viva oggi. È ricordato come un simbolo di coraggio, sacrificio e libertà. La sua storia è stata raccontata in innumerevoli opere d'arte, letteratura e cinema. Il film 300 del 2006 è una rappresentazione romanzata della battaglia delle Termopili. Il film ha contribuito a rendere Leonida un'icona moderna. L'eredità di Leonida è un promemoria del potere dell'individualità e dell'importanza della libertà. È un'ispirazione per le persone di tutto il mondo che lottano per ciò in cui credono. Grazie! Grazie! Grazie.